Siamo a Jump, non fermarsi qui, questa è un'occasione veramente incredibilmente importante di confronto sulle sfide umanitarie, sulla formazione, sullo stato dell'arte in cui sta la nostra società nazionale, sul riconoscimento l'uno dell'altro, della propria azione. Ci sono tantissime workshop in corso in questo momento in cui sto parlando, workshop che riguardano l'emergenza, la nostra capacità di risposta, workshop che riguardano il diritto umanitario, workshop che riguardano la migrazione, workshop che riguardano il Restoring Family Links, tutti argomenti estremamente importanti, di grandissima attualità, però le sfide umanitarie hanno una loro evoluzione e di conseguenza occorre interrogarsi su come le affrontiamo, su come ci organizziamo per rispondere a queste nuove sfide, sul trend di quello che succederà. È anche un'occasione unica per confrontarci su come la nostra associazione vuole delineare la propria immagine, vuole delineare la propria azione. È un momento estremamente importante, direi storico della Croce Rossa italiana e ci sono dei segnali estremamente significativi di entusiasmo, di speranza e di voglia di continuare a fare bene. C'è stato l'intervento del Comitato internazionale, della Federazione internazionale, questo implica un grande riconoscimento di quello che facciamo e una grande speranza che è riposta in noi rispetto a quello che faremo. È un momento veramente importante, per cui Jump credo che sia un nuovo inizio.